musica 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 ma sei troppo lontano ah buoni devo prendere il ferro ci vuoi troppo tempo a fare le sfide musica 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 hai sbagliato te che mo tre di mare spalle va bene attiva attiva la taglia attiva la taglia attiva la taglia che non l'ho fatto ancora mi attiva sto coglione attiva 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 non consiglio fitting dov ever completata chiudi struttura uno struttura usa un'emotio entro dieci metri da una struttura costruita da un Alleati Avata tu? Non ti hai fatto Bravo Ottimo l'avata E non lo so Quello non riesco a capire Perchè c'è qualcosa che non quadra Vado dopo lancia razzi Amato Ma come partono queste Attiva la nata, si può attivare qua? Non lo so Non ce n'è? E niente Andiamo in via Ah c'è l'altro, c'ho 4 splashes Andiamo in 7 Io cosa andiamo in via Comunque i personaggi sono diventati più veloce a me Amma mia Vediamo che c'è 9 colpi lancia razzi 3 4 4 3 modi 4 6 8 8 8 è lo terraria non è buono sapato coperti 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 ma vedi che c'è quello che sta sparando dov'è? non so dov'è? guarda torna troppo lontano lascia stare sto vicino a mucit ma sono assenta kill avvicinato vieni con me vieni qua vieni vicino a me e' un'esenta vieni con me 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 guarda te ne lancia rati non sai che gioco vieni vicino a qua vieni vicino qua vieni che va bene va bene subito all'altezza vieni con me Aspetta, sei fermo Vieni qua sopra la scala Loro da là devono venire Guarda là Lancia razzi Ehi, non vi fa Ma posso, non è successo Però questi non sanno che ho potuto pulire il lancia razzi Quello è il loro piccolo problema È via Hai scattato da qua Tra Tra Mi sono sparato nella lato Ah, vero Copriti, copriti, tra betta Dora Visto Poggi oh 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 ha creato? no 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 Quanto va? No No E' vanno qui Bella, frà T'è caciuto?